L'Apo Salvetti si riparte all'entusiasmo della promozione dello scorso anno per cercare di ottenere la salvezza quest'anno, no? Sì, proveremo a giocarcela con tutti. È un campionato molto difficile, c'è molto equilibrio. A differenza dell'anno scorso, dove nel girone A c'erano un paio di squadre con un livello un pochino più basso, sinceramente quest'anno non vedo squadre deboli, ma sono tutte molto agguerrite e molto attrezzate. Quindi per noi sarà un campionato molto difficile, però proviamo a giocarcela con tutti. Questo pre-campionato come sta andando? Qualche alto, qualche basso, però è normale quando la tua squadra deve ritrovare i leader, no? Perché comunque, ho detto bene, Borsetti, tre giocatori esperti li avete persi, però secondo me alla fine ne è venuta fuori una buona squadra. Ma è alti e bassi, è abbastanza normale per i motivi che dicevi te e per il fatto che comunque la preparazione è stata costellata dai piccoli acciacchi che ogni preparazione porta con sé. Terenzi sta rientrando non in fortunio, Galmarini è stato fermo una decina di giorni per una piccola distorsione alla caviglia. Quindi è un processo normale di adattamento della squadra, oltretutto stiamo inserendo anche giocatori importanti di quintetto base. Stiamo lavorando, i ragazzi ci stanno dando sotto in palestra, sono fiducioso. Ti chiedo su Terenzi, come sta fisicamente e se secondo te questo può essere il sostituto vero di Rabaglietti? Perché punti nelle mani e anche tecnica mi sembra che al di là della giovanità ne abbia a disposizione. Sostituto di Rabaglietti secondo me no, ma è un giocatore che ha facilità a trovare il canestro, ha tantissima voglia di fare, sta lavorando sotto in palestra veramente duramente, anche con allenamenti extra. Lo stiamo vedendo crescere perché fisicamente sta ritrovando la condizione e già l'ultima amichevole che abbiamo fatto a Samminiato ha mostrato buone cose. Quindi siamo fiduciosi anche su di lui, abbiamo ancora 15 giorni per arrivare al campionato, siamo convinti che ci darà un buon contributo. Mi sembra sia l'anno del derby anche questo qui, no? Sia l'anno con voi, la Fiorentina Basket, al di là dei quattro punti in palio, secondo te che partite saranno quelle due? Credo che saranno partite come le partite di questo girone qua, saranno partite molto equilibrate, ci auguriamo di giocarle in palazzetti pieni di Fiorentini a fare il tifo per l'una e per l'altra squadra. Credo che, sono d'accordo con quello che è stato detto in conferenza stampa, se questo derby qua può essere l'occasione per riaccendere la miccia della palacanestro a Firenze, e viva il derby!